macro categoria studi e boutique legali e professionali categoria diritto penale il premio è quello di professionista dell'anno pari opportunità andiamo a leggere insieme la motivazione per la spiccata vocazione e riconosciuta professionalità nell'ambito delle pari opportunità la professionista presta assistenza nel diritto penale con una spiccata sensibilità verso i casi che spesso hanno un risvolto sociale the winner is caterina biaffora studio legale biaffora qui prego benvenuta le consegno subito prego il suo premio grazie veramente molto perché è un premio che mi fa veramente onore e sono veramente grata per questo premio speciale allora lo appoggiavo poi naturalmente è tutto suo io la invito a accomodarsi beh anche perché abbiamo sentito adesso ci arriviamo con calma delle cose decisamente importanti nella motivazione io intanto le chiedo ricordiamo che lei è avvocato cassazionista penalista peraltro è anche autrice si occupa di pari opportunità e arriveremo lì prima le chiedo un commento su questo riconoscimento proprio contestualizzandolo anche nel periodo che stiamo vivendo cosa significa allora io da tempo mi occupo di pari opportunità e sono anche consigliera membro nel comitato pari opportunità del mio ordine degli avvocati torinesi è un impegno che porto avanti da quando sin da quando ho iniziato la mia professione perché credo che comunque il riconoscimento dei diritti venga in prima in primis con il riconoscimento delle pari opportunità pari opportunità che riguardano le fasce più deboli quindi l'impegno anche ad affrontare cause come le ultime quella dei consumatori a favore del procedimento quello dei Monti Paschi di Siena che ha coinvolto tantissime personalità di soggetti che hanno investito che sono stati danneggiati da soggetti forti come le banche a processi come i fatti di piazza san carlo dove mi sono impegnata per la difesa di quei soggetti che avevano subito appunto delle delle lesioni o in alcuni casi ci sono stati anche dei decessi proprio per tutelare questi soggetti e altri e altri insomma processi proprio per cercare di far valere le pari opportunità nel senso di riconoscimento dei diritti delle donne e quindi su questi profili ho scritto così come ho scritto anche e ci tengo ad evidenziare proprio in questo periodo per tornare all'attualità anche ai detenuti che spesso vengono abbandonati in questo periodo e che invece meriterebbero a parere della scrivente e della scritta scritta un maggiore riconoscimento perché come noi sappiamo il diritto e comunque il carcere deve portare alla risocializzazione e molto spesso questo principio della risocializzazione viene spesso disatteso. Avvocato infatti una riflessione che vorrei fare con lei lei ha paura che con questo periodo che stiamo vivendo ci possiamo risvegliare un giorno vedendo ancora più differenze visto che lei si impegna giustamente ogni giorno per dare pari dignità a tutti che pare un concetto assolutamente scontato ma purtroppo non lo è ancora per certe categorie cioè i periodi di emergenza purtroppo a volte portano a evidenziare ulteriormente le differenze. Lei ha timori da questo punto di vista o crede che stiamo lavorando nel modo giusto come società? Allora è innegabile che in questo periodo comunque ci siano ancora come l'ha detto di recente Mattarella ancora l'uguaglianza e la parità non è ancora stata assicurata e quindi dobbiamo ancora fare molto. Io credo però che attraverso l'educazione partendo proprio dai bambini più piccoli per poi modificare la cultura si possa arrivare ad un riconoscimento e ad una pari opportunità di tutti. Anche noi donne abbiamo ottenuto nel tempo questo riconoscimento, basta pensare che nel 1800 le donne non potevano fare gli avvocati. Ho scritto di recente un libro insieme ad altre colleghe per ricordare Lidia Poet che è la prima donna avvocato che aveva ottenuto il titolo ma che poi di fatto non riuscì ad esercitare la professione perché la Cassazione ritenne che quel lavoro era un lavoro di competenza maschile non femminile. Quindi direi che da oggi per fortuna siamo riusciti a svolgere queste professioni quindi c'è ancora molto e molto da fare però secondo me attraverso una cultura che considera di più anche soggetti deboli quindi non solo le donne ma anche le persone che hanno degli orientamenti sessuali diversi, le persone che hanno delle identità religiose diverse. Quindi il riconoscimento e le pari opportunità porta ad una società secondo me migliore, sicuramente migliore e che implica meno differenze. Anche l'interesse verso la società, una migliore, io mi occupo anche di complianza aziendale quindi anche sotto il profilo degli infortuni sul lavoro, il mobbing, lo straining, tutte queste forme di disparità di rapporti che devono essere superate e anche la giurisprudenza e così come anche la legislazione devono essere attenti a questi valori. La cosa bella è che lei me l'ha detto fuori onda insomma però che la chiamano avvocato Caterina e io la vedrei in quest'ottica però credo che è un ragionamento che aveva fatto anche lei tante volte, cioè non tanto come una come dire dire vabbè la chiamo solo per nome appunto perché è donna visto che stiamo parlando di pari opportunità, no il contrario proprio perché lei è in prima fila per aiutare quelle categorie che sono ancora oggi considerate più fragili, più sensibili e allora è proprio l'avvocato Caterina, cioè come se fosse l'amica di tutti proprio nell'ottica dell'aiuto, cioè io l'ho vista molto in quel modo, l'ho detto anche se lei me l'ha detto fuori onda ma so che la chiamano proprio così quindi non è un segreto e io la vedo così sinceramente, mi sembra bello come concetto e come messaggio per guardare avanti. A me piace molto, devo dire la verità che quando mi chiamo un avvocato Caterina mi riempie il cuore perché ritengo che l'avvocato deve essere anche per poter, l'avvocato rappresenta la parte e quindi quando tu entri in sintonia e l'empatia riesci ad entrare nel cuore della gente e spendere magari qualche minuto in più per sentire, per approfondire gli aspetti umani sei in grado di rappresentare meglio e quindi cercare di convincere. Mi è capitato di rappresentare un caso bellissimo che ancora non è definito di una donna che ha ucciso il marito e sono stata coinvolta dal consulato del Mozambico perché mi aveva chiesto se potevo dare una mano visto che io sono un avvocato specializzato in donne vittime di violenza e scritta nell'albo della regione Piemonte e quindi mi ha detto se potevo occuparmi di questa vicenda visto che questa donna aveva preso il massimo 30 anni con il giudizio abbreviato, allora ho cercato di entrare e di capire come mai questa donna avesse ucciso, quando poi sono andata a controllare il vissuto di questa donna che per anni aveva denunciato i maltrattamenti da parte del marito e alla fine, fino a quando i maltrattamenti riguardavano lei non ha fatto nulla, nel momento in cui i maltrattamenti hanno iniziato ad interessare il figlio che aveva dei ritardi mentali, lei ha ucciso il marito. E' vero, però riuscire poi in corte d'assise d'appello ad ottenere un riconoscimento di una riduzione sensibile della pena è stato un grande risultato, perché? Perché se non avessimo fatto conoscere il vissuto, quindi la realtà che si era perpetrato questo reato, probabilmente non saremmo riusciti, quindi questa persona che mi chiama anche Avvocato Caterina, ecco questo è significativo per dire che comunque sei entrata nel suo vissuto. Sì, esatto, è quello che devo dire, è molto bello da simbolo, per quello che l'ho considerato un po' un simbolo, visto che siamo in conclusione, guardiamo sempre al futuro, insomma come vede il futuro, Avvocato? Ma io non sono mai pessimista per natura, sono sempre una persona che lotta anche di fronte all'avversità della vita e la mia prima dominus che fu la senatrice Siriquini, Avvocato Siriquini, la prima cosa che mi disse è di fronte all'avversità della vita non bisogna mai arrendersi e quindi in questo principio me lo porto sempre avanti e cerco sempre di trovare sempre una soluzione alternativa e quindi io ritengo che attraverso questa cultura, l'insegnamento, l'educazione e anche un'attenzione verso i ragazzi, perché i ragazzi sono molto attenti, basta saperli educare, non soffocare i loro intenti, i loro sentimenti, le loro anime e da lì che secondo me si può portare ad un futuro migliore. E allora io consegno ancora il modo definitivo, esatto, il premio alla professionista dell'anno pari opportunità, naturalmente all'Avvocato Caterina Biaffora, dello studio legale Biaffora, naturalmente in attesa di riconoscere, di conoscere altri successi e altre vittorie da un punto di vista proprio delle pari opportunità, come quello che ci ha raccontato oggi. Quindi grazie e complimenti ancora. Grazie ancora e resti qui con me col premio e alla prosa, l'aspetto presto. Benissimo, grazie ancora.